Weekend di lucida artista da Bollino Rosso a Salerno, traffico bloccato, parcheggi pieni, prese d'assalto le vie del centro. Nonostante il freddo, tantissimi visitatori in arrivo in città scattano i sensi unici pedonali in via Mercanti con gli addetti alla sicurezza che intimano l'uso delle mascherine, ingressi contingentati, assembramenti alla villa comunale. Sono molti i salernitani che preferiscono non uscire di casa. Io sono salernitana di Salerno e il sabato e la domenica difficilmente vengo proprio perché c'è molta gente, lascio lo spazio a chi viene da fuori. Mi sembra un po' eccessivo, perché sono aumentati ancora i casi in città. La manifestazione aiuta però il turismo, come conferma Confesercenti, piccoli flussi di visitatori danno rispiro al settore ricettivo e infondono fiducia. La Kermess traina anche il commercio. Si è lavorato di più di solito, a differenza delle settimane scorse, anche perché il tempo ha permesso fortunatamente di farci lavorare. Sicuramente c'è più turismo a differenza degli altri anni. Sicuramente c'è più passaggio, ci sono più persone, vediamo anche delle persone che vengono da altre regioni, quindi sì, si è vista una maggiore affluenza in questi giorni. Il sindaco intanto raccomanda prudenza e mette in guardia dai video falsi di assembramenti senza controllo. C'è una grande affluenza di turisti, ma mi sembra che le cose siano tranquillamente sotto controllo. Mi dicono, non ho avuto modo di riscontrare, che gira anche qualche fake con fotografie ritoccate.